Lunedì 25 giugno alle ore 10 alla Sala Borsellino di Palazzo delle Spighe a San Cataldo presentazione della piattaforma web La Mia Città Servizi Sociali PON-SIA l'iniziativa del Comune di San Cataldo, capofila del distretto sociosanitario D11 terzo settore politiche sociali e culturali, programma operativo nazionale inclusione interventi per l'attuazione del SIA, misura A2C, creazione di portali gestionali e piattaforme interattive e per il potenziamento e l'informatizzazione dei servizi del distretto rivolti al cittadino modulo REI, carta dei servizi, gestione bandi e altro previsto l'intervento dei sindaci di San Cataldo, Marianopoli, Montedoro, Bonpensiere e Milena dell'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dei referenti di ASP, IMSS, scuole del distretto, Università di Catania, Messina e Palermo associazioni e cittadini interessati Grazie a tutti! Grazie a tutti!